Buongiorno a tutti, con oggi concludiamo la produzione del video sulle condizioni di innevamento e di pericolo valanghe sul territorio piemontese, con alcune indicazioni di carattere generale, utili per affrontare le escursioni nel periodo tardo-primaverile. Nel corso della stagione invernale, nonostante gli apporti di neve fresca siano stati piuttosto modesti, lo spessore del manto nevoso si è mantenuto nella media o sopra la media del periodo oltre i 2300 metri di quota, soprattutto sui settori settentrionali occidentali, mentre è rimasto generalmente deficitario a quote inferiori. Da fine aprile, grazie al ritorno di condizioni prettamente invernali, la neve è tornata a imbiancare l'arco alpino, raggiungendo anche le basse quote. Per proseguire in sicurezza le attività in ambiente innevato, è opportuno seguire alcuni semplici consigli. L'entità del rigelo notturno è fondamentale per garantire la stabilità del manto nevoso. Notti serene asciutte, anche con temperature di 3-5 gradi sopra lo zero, favoriscono la formazione di croste che rimangono portanti fino a metà mattina, mentre il cielo coperto permette il rigelo solo dove le temperature rimangono negative. In relazione al riscaldamento diurno, è opportuno pianificare attentamente l'ora di rientro e seguire l'evoluzione delle condizioni meteorologiche. A seguito di precipitazioni primaverili di regime temporalesco, sono possibili apporti di neve pallottolare, difficilmente riconoscibili se ricoperti da nevicate successive, che possono rappresentare un pericoloso piano di scivolamento per le valanghe lastroni. In caso di nevicate, è da tendersi un'intensificazione dell'attività valanghiva spontanea, soprattutto nelle 24-48 ore successive, in seguito al soleggiamento. Sui versanti in ombra, alle quote elevate, la neve recente può mantenersi a debole coesione anche per alcuni giorni e presentare locali situazioni di pericolo per il distacco provocato. Vi auguriamo una buona continuazione di stagione, invitandovi a seguire gli ultimi bollettini valanghe e le successive note informative emesse in occasione di nevicate significative.